splendida notizia per i fan del volo ignazio boschetto è a un passo dal matrimonio le immagini del suo addio al celibato condivise sui social hanno già fatto il giro del web mostrando l'amore e la felicità che circondano la coppia ignazio uno dei tre tenori del famoso gruppo si appresta a dire il fatidico sì alla sua amata la fortunata è michelle bertolini 30 anni e l'addio al celibato e nubilato si è svolto a bologna in un clima di grande gioia e affetto familiari e amici erano presenti per brindare al lieto evento con la madre e la sorella di ignazio in prima fila pronte a celebrare questo passo importante michelle da parte sua ha già scelto l'abito da sposa acquistato da tosca spose di elisabetta garuffi nonostante l'emozione e le anticipazioni sui social ignazio e michelle hanno deciso di mantenere un po di riservatezza sulla data esatta del matrimonio che sarà celebrato in forma intima un momento magico per la coppia che si appresta a vivere insieme un nuovo capitolo della loro vita